Ciao ragazzi, che cosa avevi in programma oggi nel tuo allenamento? Perché io ho provato a mettere una giornata intera dedicata alle gambe, quindi prepariamoci bene. Riscaldamento, come sempre, mi raccomando il riscaldamento, lato A e lato B, quindi stazione A e stazione B. Guardalo bene, è un riscaldamento misto che serve sempre a condizionare e a prepararti alla forza. Ci vediamo lì, ciao! Ed eccoci qui alla forza ragazzi, nemmeno a dirlo. Oggi nella forza c'è il back squat, quindi bilanciere sulle spalle, occhi alla sequenza. L'idea di questa forza è trovare un peso che ti consenta di battire da 6x1 e portarlo fino a 8x2. Sotto nel link ti lascio un video tutorial molto utile su come imparare lo squat in tutta sicurezza. lo trovi giù nelle descrizioni, quindi occhi ai movimenti e noi ci vediamo al workout. Ciao! Ragazzi, se tutto è andato bene, sei arrivato qui al workout finale. Oggi attenzione perché, come ti dicevo all'inizio, affuoco le gambe. In questi ben 10 giri, 4 times, cioè nel minore tempo possibile, dovessi riuscire a fare i pistol squat, squat sulla gamba, i chest bar collapse, quindi trazione toccando il petto, poi guardi che cos'è, e 20 double under e il doppio giro di corda. a proposito della corda, sotto sempre con i link utili, troverai come saltare la corda. Quindi è un video tutorial che ho creato solo per questo, semmai non sapessi usarla. Ancora una volta ti dico grazie per aver guardato questo video. Iscriviti al canale se ti va, oppure lascia un mi piace e noi ci vediamo domani. Allenati bene. Ciao! Ciao! Ciao!